Poracci, bentornati o benvenuti sul TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi sempre e comunque solo con notizie certe al 100%. Oggi parleremo degli scalper che hanno puntato Steam Deck oltre che Nintendo Switch modello OLED, del futuro della serie di Metroid e dei dati di vendita di Skyward Sword, ma non solo. Prima di iniziare come al solito vi invito a supportare il mio lavoro con un piccolissimo gesto, lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle portifiche e seguitemi su tutti gli altri social, in particolare Instagram e Telegram. Poi se volete diventare dei poracci al 100% potete darmi un aiuto immenso abbonandovi al Porion. In cambio di un piccolo contributo mensile avrete accesso a delle ricompense esclusive, poracce al 100%. Se siete interessati vi lascio il link in descrizione. Bene, iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo. Uno dei titoli più attesi da parte di Square Enix, Nioh The World Ends With You, arriverà il 27 luglio. Ma c'è chi ha già messo le mani sulla sua copia completa. Com'è stato possibile? Stavolta non c'entrano hacker o pirati, no. Ad aver reso disponibile Nioh con più di una settimana di anticipo dalla data di uscita ufficiale è stata la stessa Square Enix. A quanto pare alcuni utenti che hanno preordinato una copia fisica del gioco dallo Square Enix Store hanno ricevuto un codice di download che avrebbe dovuto contenere qualche bonus in game. Il publisher però, con un errore clamoroso, ha distribuito i codici per scaricare il gioco completo. Il risultato è che ora il gioco è nelle mani di molti giocatori e presto internet inizierà a riempirsi di spoiler. State molto attenti se non volete rovinarvi la sorpresa di giocare Nioh per la prima volta. Qualche giorno fa abbiamo parlato dei presunti margini di profitto che Nintendo ricaverebbe dalla vendita di ogni singola unità di Switch modello OLED. Sebbene molto spesso l'azienda di Kyoto preferisca il silenzio stampa per quanto riguarda questo tipo di speculazioni, questa volta ha deciso di smentire rumor tramite un tweet postato dal suo account aziendale pensato per interfacciarsi con gli investitori. Non solo quanto riportato da Bloomberg sarebbe incorretto, ma in più Nintendo ha anche precisato che non c'è alcuna intenzione di introdurre un nuovo modello dopo OLED in uscita l'8 ottobre. Insomma siamo alle solite. IGN si è assicurata l'ennesima preview su Baldo, promettente action in terza persona sviluppato dallo studio italiano NAPS Team. Oltre a nuove sequenze di gameplay che mostrano un engine molto più convincente rispetto a qualche mese fa, emergono anche interessanti dettagli. Il gioco avrà la bellezza di 11 dungeon principali e una cinquantina di torri del gufo, dei mini dungeon che per impostazione e struttura ricordano i sacrari di Breath of the Wild. Il lead artist Fabio Capone nell'intervista parla anche delle principali fonti di ispirazione che includono a sorpresa anche Monkey Island e della longevità complessiva dell'avventura che dovrebbe durare all'incirca 50 ore. Non poco. Poracci, voi cosa ne pensate di questo baldo? E apriamo il lunedì tornando a parlare dei nostri cari amici scalper, i bagarini che nell'ultimo anno e mezzo abbiamo imparato tutti quanti a conoscere molto bene. Infatti anche Steam Deck, il pc portatile di Valve, nonostante tutte le precauzioni del caso, è stato vittima delle attenzioni dei rivenditori furbetti. Valve ha provato in tutti i modi a contenere l'ondata di scalper che si sarebbe gettata a capofitto sulle prenotazioni di Steam Deck. L'azienda infatti ha comunicato l'ora e il giorno in cui si sarebbero aperte le prenotazioni, imitando non solo l'acquisto di un'unità ad account, ma anche solo agli utenti attivi prima di giugno 2021. Inoltre non si è trattato di una prenotazione diretta della console, ma solo di un deposito di 4 euro e garantisce la possibilità di essere messi in fila una volta che le console saranno in produzione e diventeranno effettivamente acquistabili. Alcuni quindi si sono ritrovati la propria prenotazione confermata per dicembre 2021. I più lenti invece, o anche solo chi è stato rallentato dai malfunzionamenti del sito, hanno visto il loro deposito garantire la possibilità di acquistare la console nel 2022 inoltrato. Ad oggi è ancora possibile mettersi in lista, ma è ovvio che si verrebbe messi in fondo alla coda. Gli scalper genialmente quindi hanno pensato di iniziare a rivendere i preorder confermati per il 2021, che ricordiamo però sono solo archi di tempo indicativi in cui Valve conta di aprire le prenotazioni, non di certo la data effettiva di uscita di Steam Deck. Che ve lo dico a fare, i prezzi sono folli e acquistare su ebay da chi ha messo il deposito è un'azione a dir poco sconsiderata che non garantisce nulla, significa proprio buttare i propri soldi. Fortunatamente sembra che ebay si stia muovendo contro queste aste, che violerebbero le polisi del sito per quanto riguarda le prevendite. Infatti le regole di ebay impongono che tutti gli oggetti in prevendita vengano spediti entro 30 giorni dalla chiusura dell'asta, cosa impossibile visto che prima di dicembre 2021 la consola ancora non sarà disponibile all'acquisto. Insomma, come al solito bisogna mantenere la calma e la stessa cosa vale per Switch OLED. Sì, è sold out su Amazon, ma è tranquillamente ordinabile sul sito di GameStop in entrambe le colorazioni, quindi anche in questo caso non c'è alcun motivo di buttare i propri soldi. Bisogna avere solo tanta pazienza. E torniamo a parlare di Metroid, perché il 2021 è senza ombra di dubbio l'anno della rinascita del brand e oggi abbiamo aggiornamenti su un doppio fronte. Da una parte c'è il buon Jeff Grabb che ci aggiorna in via non ufficiale sullo stato della Trilogy Collection, dall'altro Yoshio Sakamoto che rassicura i fan sul futuro della serie. Per quanto riguarda la Trilogy Collection, Grabb ha nuovamente confermato che si tratta di una raccolta pronta ormai da anni, che non aspetta altro di essere pubblicata, ma Nintendo ancora non ha deciso la finestra di uscita, principalmente per due fattori. La pandemia ha rallentato di parecchio lo sviluppo dei titoli e Nintendo si è trovata molto in difficoltà per quanto riguarda la Quality Assurance, ovvero la garanzia di qualità, quella serie di test che si fanno a produzione ultimata per garantire che il prodotto finale rispetti gli elevati standard qualitativi a cui sempre punta la grande N. Il problema è che con i disagi dettati dalla pandemia, in particolare il lavoro in remoto, parecchi titoli sono stati messi da parte per concentrare la Quality Assurance solo su due o tre progetti di grande entità. La Trilogy Collection sarebbe proprio uno di quei giochi messi in disparte. L'altro motivo, ancora più ovvio, è che la Trilogy Collection servirà da apripista per Metroid Prime 4 e sarà legata alla sua data di uscita. Se quest'anno quindi avremo Dread, non avrebbe senso bruciarsi così l'utilità della Trilogy. Insomma, la Collection, anche se è pronta, non sarà annunciata finché i lavori su Metroid Prime 4 non saranno completati. Anche in questo caso è solo questione di pazienza. Yoshio Sakamoto, volto storico della serie Metroid, nonché producer di Dread, sulle pagine di Famitsu ha parlato del futuro della serie. Dread sarà il capitolo conclusivo di Metroid? Sì, ma solo di questo arco narrativo. Per Sakamoto Dread rappresenterà la fine della storyline che ha visto il suo inizio nel 1986 con Metroid sul NES e che ha esplorato il rapporto che si è venuto a creare tra i Metroid e Samu Saran. La fine però non significherà l'abbandono della serie, ma anzi Sakamoto ha specificato come non avrebbe senso abbandonare il brand proprio ora e ha invitato i fan ad attendere con entusiasmo i futuri sviluppi della serie. Sembra quasi un sogno sentire queste parole, ma sono realtà. Il 2021 è veramente l'anno di Metroid. Con buona pace di Zelda e del suo 35esimo anniversario. Se siete a totale digiuno della serie vi consiglio inoltre di leggervi report che stanno uscendo sul sito ufficiale americano. Oltre a mostrare nuove sequenze di Dread e a spiegarne il gameplay, l'ultimo articolo è anche un'ottima retrospettiva sulla serie intera. E per chiudere poracci torniamo a discutere dei dati di vendita che per questa settimana e per l'intero mese di giugno riservano parecchie sorprese, sia in Europa che negli Stati Uniti. La scorsa settimana in UK c'è stato il trionfo di Skyward Sword, che ha debuttato nella classifica dei software più venduti al primo posto. Un successo per nulla scontato se si considerano soprattutto le legittime perplessità che avevano accompagnato l'annuncio di questa remaster. Il prezzo pieno per un porting da Wii sembra non aver impressionato più di tanto il grande pubblico, che ha premiato la redizione di Nintendo, che ha superato colossi come la New Entry, Formula 1 2021, FIFA 21 e il sempreverde Mario Kart 8, che continua a vendere ad anni dalla sua pubblicazione. Ottimi risultati anche per Mario Golf e Ratchet & Clank, che occupano gli ultimi due posti della classifica. Se però attraversiamo l'oceano e andiamo a vedere i dati di vendita di giugno 2021 negli Stati Uniti d'America, anche qui ci sono interessanti novità. Dal lato console, Xbox Series X è stato l'hardware che ha generato più introito. Significa che ha venduto meno di Switch, ma i suoi incassi sono stati maggiori, visto che il prezzo è di 500 dollari contro i 300 della console ibrida. Un ottimo risultato per Microsoft, che dopo l'ottima conferenza dell'E3 2021 ha chiaramente dato una scossa al mercato, collezionando il miglior risultato di sempre per la sua piattaforma, battendo il mese di giugno 2011. Per quanto riguarda i software, ottimo il debutto di Ratchet & Clank, il migliore di sempre per la serie. Il prezzo di 70 dollari, anche in questo caso, non ha spaventato i consumatori e Rift Apart è riuscito a battere il record del suo predecessore del 2016, raddoppiando gli introiti. Anche quello di Mario Golf, in terza posizione, si è confermato come il lancio più remunerativo dell'intera serie, battendo il record fino ad ora inviolato di Todd Stultour su Gamecube, uscito nel lontanissimo 2003. La classifica è molto variegata e fa piacere vedere nelle posizioni alte nomi del calibro di Scarlett Nexus o anche di Tony Hawk's Pro Skater, che ha ricevuto una significativa spinta dall'uscita su Nintendo Switch. Il 2021 si conferma un anno molto particolare, sia in termini di uscite che di ricezione da parte del pubblico. Voi vi sareste aspettati risultati del genere? E questo poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e come al solito vi aspetto nei commenti per discutere delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani per un nuovo video. Io sono il Poro Deck, Michele Dredd, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi può aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa!